Musica Buon inizio di settimana, è il 31 marzo lunedì, siamo al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Donato Mignogna. Direttamente sui quotidiani, iniziamo con il giornale del Molise.it In evidenza le candidature alle primarie del centro-sinistra a Campobasso, comunali Campobasso, confronto tra i candidati in corsa alle primarie, il pezzo a firma di Marcella Tamburello. Dunque un faccia a faccia con cittadini, giornalisti, politica e associazioni per presentare il proprio programma e far capire a tutti i motivi della propria scelta. Augusto Massa, Bibiana Chierchi, Antonio Battista, Michele Durante, Pietro Colucci, Giuseppe Libertucci e Giovanni Muccio hanno scelto di confrontarsi insieme per spiegare meglio i motivi della candidatura alle primarie del centro-sinistra, che ricordiamo ci saranno domenica prossima. Vediamo le altre notizie, sempre su Campobasso, sempre per quanto riguarda le amministrative, battute finali per la scelta dei candidati. Andiamo a Castelpetroso, Revenue Management, ecco l'antidoto contro la crisi. Da Monte Roduni riparte la guerra del vino, ridateci il Monte Pulciano. Elezioni, amministrative Campobasso e Termoli, Quagliariello detta la linea. La sanità, il Neuromed lancia un progetto per prevenire l'ictus cerebrale. Sabato l'inaugurazione, ricordate, del Rivolo, dopo un'attesa di oltre 30 anni, apre la Fondovalle. La cronaca da Isernia, ciclista investito sulla Statale 17. Si parla anche di una rapina, una ragazza nella villa comunale di Isernia. Una persona è stata denunciata dai carabinieri. A Termoli, le primarie, Giuliano punta sulla coerenza. No a padroni. Poi come possiamo vedere ci sono le notizie dalla regione, dall'Italia, e la rubrica degli editoriali, idee e opinioni. In alto si parla di cultura, turismo e carresi del Basso Molise. La scomparsa della regione, articolo a firma di Pasquale Di Bello. Andiamo su primo piano. Qui, come ogni lunedì, molto sport, ma chiaramente anche le altre notizie. Andiamo su quelle sotto la testata. Regione, giunta, si cerca la quadra. Ma continuiamo a lavorare. Parla il governatore. Nessuna pausa nell'azione amministrativa. Il nuovo esecutivo garantirà la rappresentanza territoriale. Le primarie di Campobasso, progetti, sponsor e ambizioni. Sfida aperta nel centro-sinistra. Ieri il confronto tra i sette candidati alla guida della coalizione. Una leopoldina targata. PD scrive. Andiamo ad Isernia. Le manno apre la campagna elettorale per le europee. L'ex sindaco di Roma. Una in lista. Pure un molisano. Da Vasto, invece, ennesima crisi in comune. Chieste le dimissioni di La Penna. E adesso lo sport. Pifano rovescia il Fano. Boiano. Fine della corsa. Colpo salvezza dell'Agnone. Vanificati 52 anni di storia. Bianco-rossa per quanto riguarda il Boiano. Buon punto dell'Isernia a Pesaro. Il Termoli e Spugna. Città Sant'Angelo. In eccellenza la Dauna fa a Caracchiri. Cliternina. Casa, dolce, casa. Fornelli e Vasto Girardi successi a suon di gol. In promozione per l'Olimpia Riccia è quasi fatta. Impresa Rocca Sicura. Tunfo del Castelmauro. Civitanova alza la voce. Vediamo i campionati minori. Andiamo sulla prima categoria. Pizzone formato a Mazzagrandi. Ripa, Invetta, Ururi. A segno. Nella seconda l'amatore Boiano raccoglie il testimone. C'è spazio anche per le altre discipline esprustive. Judo. Centracchio. Campionessa italiana. Juniores. Dall'Abruzzo ancora va stese ok. Marina giù. Vinci guerra. Griffa il derby. Chiudiamo primo piano per andare sul quotidiano del Molise. Siamo sotto la testata. Il monito dell'arcivescovo. Bregantini richiama Renzi. Più attenzione ai problemi del sud. L'arcivescovo, presidente della commissione lavoro della CEI, in calza dunque il governo Renzi. Sulla destra, centro-sinistra, primaria al nastro di partenza. Siamo a Campobasso, confronto tra i sette aspiranti sindaco. E siamo adesso invece sul colonnino di spalla. I Sernia, ultimatum di Alemanno, candidati scelti dai cittadini. Spazio anche per l'avvertenza GAM. Oggi i lavoratori rialzano le barricate. I lavoratori faranno l'ennesimo sit-in davanti ai cancelli dell'azienda. E adesso questa grande foto con lo stadio di Boiano, cancellata la storia del Boiano. I bianco-rossi incappano nella quarta rinuncia. È radiazione dopo 52 anni. Termoli e Agnone banchettano. I Sernia pari, miracoloso, a Pesaro. In eccellenza, cliternina da sballo. Gioventù Dauna finisce al tappeto. E adesso anche la promozione. Tre Pini-KO-Casalnuovo-Accorcia-Riccia-Tutta. In seconda categoria, l'amatori Boiano conquista la prima. Dunque i matesini acquisiscono la promozione con alcune giornate di anticipo. Chiudiamo anche il quotidiano per andare sul Sannio. Qui spazio alle primarie del centro-sinistra. Ora le battute conclusive. Intanto nel centro-destra, Fratelli d'Italia avverte democrazia nelle scelte oppure alleanze a rischio. Domenica prossima le consultazioni per scegliere il candidato sindaco di Campobasso. Sulla pagina regionale del Tempo in evidenza una notizia che riguarda Agnone. Il paese in vendita per sopravvivere. La proposta provocatoria di Domenico Lanciano dell'Università delle Generazioni. L'aria buona e il cibo sano hanno richiamato nove famiglie olandesi e tanti VIP. Nel colonnino sulla spalla da Termoli nell'area artigianale regna l'incuria. A centro pagina troppi incidenti mortali sul lavoro. Si riunisce il comitato di controllo. Andiamo in basso. 90 sacchi di rifiuti raccolti sulla spiaggia. E' quella di Petacciato. Infine aumentano le richieste di sfratto per Morosi. Siamo a Campobasso. Rispetto a un anno fa è salito il numero degli inquilini che non pagano l'affitto. Da i quotidiani regionali a quelli nazionali. In primo piano qui troveremo, e già vediamo il titolo di apertura del Corriere della Sera, la polemica tra Grasso e Renzi. No, il Senato non sarà più elettivo. Renzi striglia Grasso. Lancia avvertimenti. Mollo tutto se la riforma non passa. Ho giurato sulla Costituzione, non sui professoroni. Dice faremo il salario minimo. Dunque il Premier spiega i quattro punti del piano. Facciamo sul serio. Anche Berlusconi deve rispettare il patto. Dagli esteri Francia crollo socialista. Le Pen avanza. Hollande vince a Parigi con Anne Hidalgo. Sulla destra il trionfo per Erdogan. L'opposizione laica fallisce la spallata. Il leader turco mantiene Istanbul. Ora, dal Corriere a Repubblica, eccola qui, Renzi a Grasso sul Senato. Non mollerò polemica dopo l'intervista proprio a Repubblica. Il Premier basta con la difesa dello status quo. Parla Alfano. Riforma ok. Solo piccoli ritocchi. E poi anche qui la grande foto. Francia, tracollo dei socialisti. Soltanto Parigi. Salva Hollande. Al ballottaggio. Triunfa dunque l'UMP. Le Pen conquista almeno otto città. Chiudiamo Repubblica per andare sulla stampa di Torino. Il Senato di Renzi con 148 membri, ma nessun eletto potrà proporre modifiche alle leggi, ma la Camera deciderà se accettarle. Il Premier stoppa Grasso e dice la musica cambia. In alto addio a D'Ambrosio, maestro di rigore. Lo ricorderete, l'ex PM morto a 83 anni. Anche qui dalla Francia, dove trionfa la destra, i socialisti tengono Parigi. A stenzioni record nei ballottaggi. Le Pen conquista quattro città. Dalla stampa adesso passiamo al tempo. Riecco il Senato di Cesare e Bruto. Un salto nella storia da parte del quotidiano romano. Coltelate PD, guerra fratricida per l'abolizione. Grasso guida la rivolta, ma Renzi tira dritto. Palazzo Madama ha spese folli. Vediamolo un po', secondo il tempo. 540 milioni l'anno, 246 solo per salari e pensioni dei dipendenti. Una foto di Papa Francesco che benedice i due Marò. La moglie di La Torre ringrazia il quotidiano Il Tempo. Poi ci sono alcune notizie sulla destra. I sondaggi premiano la destra. Storace, alleato di Berlusconi. Quanti insulti ho ricevuto, dice. Ora, il giornale, la rivolta del Senato. Renzi in difficoltà. Il Presidente Grasso guida la casta contro l'abolizione. Altro che democrazia, difendono la poltrona, è stato detto. Berlusconi, sulle riforme ci siamo, ma niente. Testi blindati. Sulla spalla, giustizia lumaca, in cella, malato. Dopo 24 anni, il colle lo grazia. Tra collo Hollande, la Francia se destra, scrive il giornale. Trionfano MP e Front National. Le Pen esulta il risultato migliore della storia. Il padre, dice, Marine è pronta per l'Eliseo. Ora, uno sguardo all'unità, riforme, duello sul Senato. Anche qui in apertura a questa vicenda. Renzi a Grasso, no allo status quo, rispetto tutti. Ma la musica deve cambiare anche nelle istituzioni. La replica, non sono un conservatore, ma attenti ai numeri. Oggi il disegno di legge costituzionale. La grande foto, anche qui. Addio a D'Ambrosio, una vita per la giustizia. Uno sguardo al fatto quotidiano. Eccolo qui, lo abbiamo aperto in alto. Addio a D'Ambrosio, capo del pool di mani pulite. Si parla di Grillo che accoglie l'appello contro la svolta autoritaria. Il leader del Movimento 5 Stelle firma il documento dei costituzionalisti. Scontro Renzi-Grasso sul Senato. Poi, come ogni lunedì, c'è il reportage del fatto. I nuovi schiavi del lavoro. Il messaggero taglia IRPEF. Ecco il decreto. Entro il 10 aprile, il provvedimento che garantirà 80 euro in più nelle buste paga di maggio. Per coprire i 7 miliardi necessari, colpita anche la sanità. Tanto stretta sui dirigenti di Palazzo Chigi. Continuiamo con il mattino. Ieri c'è stato in serata l'incontro, la partita tra il Napoli e la Juventus. Vinta dal Napoli. Canta Napoli e il titolo in alto che riguarda lo sport. Poi, riforma Senato, scontro nel partito democratico. Renzi sfida Grasso. La musica deve cambiare. Taglio delle tasse, il piano per le risorse. Intanto oggi il Consiglio dei Ministri presenta il disegno di legge. Petizione di 25 parlamentari. Democrat contro il Premier. La Gazzetta del Mezzogiorno. Ostacolo Grasso per Renzi. Il Presidente del Senato. L'Assemblea deve essere eletta dai cittadini. Il Premier insiste. La musica cambierà. Non prendo in giro gli italiani. E adesso uno sguardo al mondo dello sport. Siamo sulla Gazzetta. Eccolo qui. Un titolo che spiega tutto. Napoli. Boom, boom. La Juve va. K.O. Seconda sconfitta in campionato per i bianconeri. Cajon in fuorigioco. Aggiunge la Gazzetta. E Martens piegano. La capolista rimasta a secco dopo 43 partite di fila. In cui aveva sempre segnato. Benitez Conte. Polemica sui fatturati. La Roma ora è a 11 punti. Che mercoledì si recupera col Parma. Possono diventare 8. Sulla destra, intanto stasera, Inter. Mazzarri cambia modulo per trovare i gol. Vediamo cosa accade in casa Milan. Galliani ci prova, ma ha pochi soldi per tenere Cacà. In alto, ieri giornata di polemiche. Il rigore, anzi no, che caos Rizzoli e la Roma vola. Destro e Bastos ha segno con il Sassuolo. Ma ci sono state diverse polemiche. Bene, come sempre con la Gazzetta. Terminiamo l'appuntamento del mattino. Ma prima di salutarci, in linea alla redazione sportiva per gli E-Lights. A Miternina Giulianova 1-0 Ancona Sulmona 4-0 Boiano Recanatese 0-3 Civitanovese Celano 0-1 Iesina Maceratese 0-1 Matelica Fermana 1-0 Limpiagnone Stefano 1-0 Renato Curi Termoli 1-2 Vispesaro Isernia 0-0 Ed ora la classifica anche per la Serie D. Ancona apre la classifica con 67 punti Matelica 57 Termoli 56 Maceratese 52 Vispesaro e Giulianova 44 punti Con 39 troviamo Celano, Fermana e Civitanovese Anche Iesina 39 punti Fano 38 Recanatese e Sulmona 36 punti Olimpia Gnonese 34 Amiternina 33 Renato Curi 22 Isernia 21 E chiude la classifica della Serie D Boiano con 1 punto Al decimo della ripresa Si sblocca il risultato al Civitelle Ginestra respinge la conclusione di Esposito E dopo un batti e ribatti Epifano ad insaccare l'1-0 Che sarà poi il definitivo Tra Olimpia Agnonese e Fano Il Termoli si impone 2-1 In casa della Renato Curi Angolana Dopo appena tre giri di lancetta E Palumbo che realizza il vantaggio del Termoli Nella ripresa al 34esimo Santoro 2-0 per il Termoli Sul finire di gara inutile Il gol di Saltarin Che chiude la gara sul 2-1 Campo Basso Sesso Campano 1-0 Cliternina Gioventuda 1-0 Gambatesa Montenero 2-0 Montacuila Roccaravindola 1-0 Fornelli Alife 5-2 Vasto Girardi Roseto 4-0 Venafro Santeliana 3-0 Virtus Pozzilli Vairano 0-0 Ed ora la classifica Apre la classifica dell'eccellenza Campo Basso con 76 punti Gioventuda 1-0 64 Sesto Campano 55 Fornelli 52 Venafro 47 Roseto 37 Gambatesa 36 Vasto Girardi 33 punti Montacuila 31 Cliternina 29 Roccaravindola 23 Virtus Pozzilli e Santeliana con 22 punti Vairano e Alife 20 punti e Montenero chiude con 18 punti Criternina che batte la gioventù calcio d'auna la punizione magistrale di Menko la testa vincente di Daniele De Pascalis per il gol che regala la vittoria alla Criternina l'esultanza incredibile di Daniele De Pascalis che batte sulla propria maglia il gol quello della vittoria a passare in vantaggio al comunale di Fornelli e alla Life al ventesimo con il gol di Iameo per l'1-0 e al sedicesimo della ripresa Infimo pareggia i conti con l'1-1 all'ottantunesimo il 2-1 è firmato da guadagno su calcio di punizione all'ottantatresimo Cifani di testa triplica le marcature bianco-verdi all'ottantasettesimo Iameo incorna di testa e fa 3-2 al novantesimo Infimo cala il poker con questo pregevole pallonetto e al novantaduesimo De Rosa fa mano piena per il definitivo 5-2 tra Fornelli e Alife E adesso è veramente tutto grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo alle 14 il TG con tutte le ultime notizie arrivederci grazie a tutti